Quella di ricordare gli anniversari è una vecchia abitudine che ci mette davanti al tempo che passa, come eravamo e come siamo diventati, all'importanza se vogliamo al dovere di ricordare per continuare nel segno e nelle idee della persona che stiamo ricordando, di averne sempre presente il sacrificio, nel caso si tratti di una vittima uccisa per il suo impegno civile, morale, o se si tratta di un evento di non dimenticarne l'importanza e il significato. Proprio in relazione a ciò, oggi vogliamo ricordare un anniversario apparentemente banale ma denso di significati. L'arresto di Bernardo Provenzano è avvenuto 11 anni fa, il 10 aprile 2005, a Montagna dei Cavalli, a due passi da Corleone. Si trattò di una conclusione di mesi e mesi di indagini, appostamenti, intercettazioni, ricerche, dopo che il capo di Cosa Nostra era sfuggito a una serie di tentative di arresto, venuti meno probabilmente perché i vertici degli inquirenti, che erano al corrente degli spostamenti del boss, non vollero, per quanto si può saperne, catturarlo a Marineo, dove Provenzano si era recato per un summit probabilmente perché non avevano ritenuto che fosse il momento. Si è parlato e si continua a parlare della trattativa statomafia, del fatto che il pentito Eulardo, infiltrato tra i mafiosi, i vari graduati dei carabinieri, Riccio, Obinu, Mori, avessero con Provenzano una sorta di accordo, risalente addirittura all'arresto di Totorriina, che Provenzano avrebbe offerto in un piatto d'oro alle forze dell'ordine che lo cercavano e che dimenticarono, al momento dell'arresto, di perquisirne il covo. Il boss, una volta detto Binu Utratturi, l'uomo in grado di seminare il terrore in tutta Italia, venne trovato come un tranquillo vecchio contadino in un casolare, dove era stato ricavato un localino in cui vennero trovate Bibbie, Ricottina e Cicoria, assieme ad una macchina da scrivere con i pizzini e a una televisione sintonizzata su teleiato. A undici anni di distanza molte cose sono cambiate, ci sono stati tentativi di trovare un sostituto a Provenzano a partire da Salvatore Lopiccolo per arrivare all'imprendibile Matteo Messina Denaro, detto Ustrocchio. Ma c'è molta gente che crede che l'unico, insostituibile e intoccabile capo di Cosa Nostra sia ancora Utsutoto Ucurtu. Salvatore Reina è che l'eredità non può che aspettare al suo rampollo oggi libero. Salvuccio che sta dimostrando di essersi evoluto, di essere diventato scrittore alla faccia di Saviano, che in televisione ieri sera ha dimostrato come, da quelli che dicono i figli dei bossi, sono l'esatta prosecuzione dei loro padri. Undici anni in cui i magistrati e forze dell'ordine si sono mostri cercando di assicurare alle patrie galere tutti coloro che ancora tentano di riproporre le solite regole di Cosa Nostra, ovvero violenze, intimidazioni, estorsioni, omicidi e affari con la politica. Binno, malgrado i ripetuti appelli del figlio affinché sia liberato e portato in ospedale, sta ancora nella sua cella, con tutte le sue malattie, ha difficoltà persino a muoversi e sembra del tutto rincoglionito. Si dice che ormai sia arrivato alla fine del suo tempo, ma ancora resiste e resistono anche i giudici che hanno sempre respinto la richiesta di un'assistenza ospedaliera. In attesa buona permanenza e anche cordiali saluti.